Buongiorno universo e benvenuti a 5 minuti per brillare. Ogni promessa è debito ed eccomi qua, sono arrivata. Potete ridere ora o tra poco quando mi usciranno le prime parole spagnolizzate tradotte letteralmente all'italiano. Vi chiedo scusa immensamente sin d'ora perché sono 15 anni che vivo in Spagna e infatti sono anni che amici, parenti, familiari ed ora anche parecchi clienti mi hanno chiesto di pubblicare in italiano qualcosa e ho deciso di lanciarmi completamente fuori dalla mia zona di comfort sapendo che purtroppo non sono bravissima oramai nel mio italiano parlato e scritto. Perciò spero di riuscire comunque a contribuire in qualche modo. Vi ringrazio tantissimo innanzitutto per essere lì, pubblicherò questi video di 5 minuti e nel nostro gruppo, un piccolo gruppo di persone che mi hanno toccato l'anima che sono libera di invitare chiunque pensino possa essere interessato a piccole sezioni di coaching personalizzato del giorno per giorno per mettere in pratica nuovi rituali e piccole cose, piccole suggerenze che possono aiutarci a vivere una vita migliore ed anche in altri posti ovviamente, in altri siti dove i miei clienti ed altre persone potranno averne accesso. Perciò innanzitutto ringraziarvi e farvi sapere che sono qui per servire. I primi 5 minuti di oggi li dedicherò a presentarmi. Sono Silvia Benedetta Cartegni, ho 33 anni, qualcuno di voi già mi conosce e come ripeto mi ha toccato in qualche modo e ha fatto di me quello che sono oggi in un modo o nell'altro. Ho 5 splendidi bambini di 3, 6, 7, 12 e 13 anni e mezzo, che sono il mio più grande orgoglio ovviamente, sono la mia più grande lezione di vita e la ragione per la quale ogni mattina mi sveglio con la voglia di migliorare. Sono impresaria e realmente sto ricominciando ciò che più mi appassiona. Sono anni che studio e lavoro nell'ambito dello sviluppo personale, della crescita personale e sono una coach, allenatrice personale si direbbe, a distanza sia a livello professionale che personale. Mi sono specializzata con ragazzi dagli 11 ai 17 anni, ragazzi con situazioni difficili perché imparino ad essere leader della loro vita in maniera positiva e lavoro tantissimo anche con clienti personali, a livello personale e con imprese. Ho deciso di dedicare questi 5 minuti al giorno a voi per poter semplicemente condividere alcune esperienze e lezioni che la vita mi ha insegnato e piccoli rituali, piccole cose che ci possono aiutare per mettere in pratica per avere nuove abitudini nel giorno per giorno e riuscire effettivamente a migliorare e dare spazio al nostro vero potenziale. Tante volte abbiamo un'idea di quello che vogliamo fare però la nostra vita sembra non rifletterlo e non sappiamo perché. Il mio scopo è quello di aiutarvi a semplicemente prendere coscienza perché in 5 minuti è difficile fare di più prendere coscienza che ci sono diverse cose nella vita alle quali bisognerebbe prestare attenzione e se lo facessimo realmente i nostri risultati sarebbero diversi. Ho avuto esperienze meravigliose delle quali sono grata e altre esperienze drammatiche direi delle quali sono grata anche perché tutte mi hanno portato ad imparare tante cose ad essere la persona che sono e ne sono abbastanza orgogliosa. Perciò non mi ritengo migliore di nessuno ovviamente la unica ragione per la quale voglio fare questo è perché sento che ci saranno lì fuori qualche persona che potrà, anche se fosse una di voi che potrà avere la pazienza e la voglia di ascoltare e che realmente potrà migliorare qualcosa nella sua vita anche per piccola che sia. Ecco questo per me sarebbe un grandissimo orgoglio. Quindi grazie mille di nuovo per essere lì. Vivo in Spagna, a Marbella e sarò a vostra disposizione per consigli, suggerenze, suggerimenti è arrivata la prima e tutto ciò di cui vogliate parlare o qualsiasi curiosità possiate avere sono anche ben disposta privatamente ad avere conversazioni con voi di quello che vogliate è un tempo che dedico di contribuzione il mio scopo principale è contribuire in questo senso generosamente dal mio cuore con la voglia di poter migliorare qualcosa anche perché ogni goccia e ogni cosa che facciamo ha una conseguenza nella nostra vita e nella vita degli altri e le persone che ci sono attorno io ne sono pienamente cosciente perché lo vedo e lo vivo tutti i giorni ed ho intenzione di vivere con questa passione come ho fatto fino ad oggi migliorando ovviamente giorno per giorno perciò di nuovo spero poter parlare e conoscervi meglio attraverso queste piccole sezioni di 5 minuti per brillare rimango a vostra disposizione ci vediamo tra pochissimo per i primi 5 minuti per brillare riguardo al potere delle parole ciao brilla